Secondo il rapporto dell'OMS, la violenza contro le donne rappresenta un problema di salute di proporzioni globali enormi. In Italia i dati stat mostrano che il 31,5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex-partner, parenti o amici. Gli supri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner. Numeri che l'Istituto Professionale Ipsias di Marzio Michetti vuole provare ad invertire sensibilizzando i propri alunni con un convegno dal tema Un altro mondo è possibile, impariamo ad amare. È una tematica a cui i ragazzi non sono del tutto preparati ancora. È ovvio che riguarda la violenza in generale, ma dando uno sguardo particolare alle ragazze, a volte sono ancora così ingenue, così sprovvedute di fronte a certe situazioni che sembra quasi imbarazzante, perché non è più possibile al giorno d'oggi con tutto ciò che vediamo. Ogni scelta può essere fatta, ogni scelta va bene, ma va fatta consapevolmente e con il rispetto di se stessi, che è la prima cosa. Andare a lavorare sulla prevenzione e la sensibilizzazione diciamo che è il nucleo centrale del nostro lavoro. Noi lavoriamo molto sulla riparazione del danno, prendendo le donne in carico, ma è centrale questo discorso di sensibilizzare le nuove generazioni per aiutarle a riconoscere preventivamente quelli che sono i segnali della violenza di genere. Il convegno prende il titolo da un cortometraggio realizzato dagli alunni della classe quarta A con il coordinamento della professoressa Ilaria Fagnani, docente di psicologia generale e applicata. I ragazzi fanno tanta difficoltà a distinguere questi piani di comunicazione e a distinguere queste modalità. Quindi erroneamente credono e sono portati a credere che l'arroganza, la prepotenza, il sopruso diventino e siano condizioni di normalità. La giornata si è chiusa con la performance teatrale degli studenti della classe seconda B, con la lettura espressiva del testo poetico Quel posto buio. È stato un momento importante per le donne che hanno prodotto questi elaborati perché hanno dato la capacità di tirare fuori quello che è questo vissuto doloroso e violento ed è stato importante per i ragazzi perché hanno toccato realmente con mano quello che è il fenomeno della violenza di genere.